Musica Dai, non ci manca molto Per arrivare alle nostre mille ghiande Sugli alberi posso salire? Io tra l'altro mi ricordo che sul vecchio cellulare di mia sorella Avevo un gioco dell'era glaciale Ma non mi ricordo com'era Raccogli le pietre per lanciarle Se trovi una pila di rocce colpiscila per avere delle pietre Puoi raccogliere fino a 25 pietre Lancia le pietre alle creature ostili premendo cerchio Ok Vabbè Me ne dà due alla volta però Mi sa di sì E devo prenderle prima che scompaiono Ah ok, però sono ogni pietra tipo 5 all'incirca Madonna mia che bello quel lupo Aia che male Bastardo Vabbè posso comunque colpirlo Dove è via? È venuto a vendicare l'amico Ok C'è Da qualche parte Dovrebbe essere qui Eccola qua Eh no era un frutto mi sa Oh che peccato Onestamente speravo fosse più una ghianda Quello che cos'è invece? Uh aspetta Ok con triangolo No Levatevi Sono i miei fiori Via da qui Ecco fatto Bello in mezzo ai cadavri dei miei nemici Ok calmi un attimo C'è qualcosa? No Sembrerebbe di no Oh ma si svegliano presto i lupacchiotti eh Meglio fare Attenzione Meglio muoversi più che altro Allora io intanto Grazie Dammi Grazie Grazie 10 chiande Levatevi tutti e due Sono Lo scoglietto raffamato Funzionalità bonus sbloccata E Che cosa abbiamo sbloccato? Più che altro sono curioso di sapere che cosa abbiamo sbloccato Gioco Me lo puoi dire? Io intanto Puoi mirare e lanciare le pietre Ah grazie Puoi anche sparare a certi oggetti Usa la mia per sparare le piante sulla volta della caverna Quelle piante che sembrano gli alieni Oh grazie Quindi questo ti spinge comunque anche a guardare in alto Che è un consiglio mica male sai Allora mio caro amico che cos'hai per me? Ciao Mi parli? No mi ignora Benvenuto nella caverna dei pipistrelli Ora i pipistrelli non sono qui Prova a ritornare qui Quando torneranno i pipistrelli Tutto molto vago Ehi la Che sorriso che ha fatto Aiuto Ok Fammi indovinare Mi farei passare una volta che i pipistrelli se ne saranno andati Vero? Menni una mano No eh Ok sono tornato Sfida della grotta dei pipistrelli Trovi i pipistrelli con la ghienda di scherot finchè hai tempo Non ho capito In che senso Ah ok ho capito Ok Devi solo È il gioco stupido dove devi solo trovare il pipistrello dove si è mosso Quello lì Tadam Ok è una cavolata però Almeno una minima di sfida dai Almeno è una minima Ah proprio Così proprio neanche lo sbattimento Ma proprio zero Dai Il terzo Dai almeno Un pelo di velocità Dai 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 Facile Quello al centro Tadam Aiuto Pipistrelli Ma se c'hai una corazza grossa quanto l'armatura del gorgotarg Che è un dio azteco paleolitico Non so che cacchio ho detto va bene Vabbè vediamo quante altre ghiande Dove siete apparsi voi Maledetti Abbiamo bisogno Per il prossimo suddetto potenziamento Uh grazie Meglio sbrigarsi Prima che si risveglino Ecco fatto C'è qualcosa qui Sembrerebbe di no Sei svegliato Non lo so Meglio muoversi Qua non c'è nulla da annusare Muoviti 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 Qua dove eravamo prima Sì era dove eravamo prima Levati Sono più potente di tutti voi Ecco fatto Grazie Io intanto Più che altro Non capisco se i ruggiti sono di questi qua crepati O se sono tipo più in alto Io intanto Tengo sempre un occhio Dietro di noi Ok Sembra si sia svegliato Ma credo che fino a una certa distanza Non ci vedano Quindi meglio muoversi Oh cinghiale Cinghialozzo Oh 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 Fermo fermo Dov'è? Dov'era? Badonna mia Che Che tiro Che precisione Da quella parte Ti ringrazio Grazie Che poi la frutta Vabbè sì L'attacco speciale Tutto quello che vuoi Ma Di solito Finisco a sbagliare Ad utilizzarlo E utilizzarlo Effettivamente no Ok Via delle palle Ah Questi sono gli unici nemici Che creepano E scompaiono In una nuvola di fumo Aspetta Ok L'ho preso al volo Due al volo Fantastico Ecco qua Di qua si passa Allora aspetta Prima di Proseguire Ecco qua Vediamo Alcune sporgenze Saranno fuori portata Se saltando arrivi Vicino alla sporgenza Scratch si aggrapperà Aggrappati a una sporgenza Premi X Per saltargli sopra Ok Grazie Bravo Scratch Fermo C'è qualcosa qui Dobbiamo guardare anche in alto Nelle grotte Si sa mai che Ho bisogno di un po' di sassi Eccoli là C'è qualcuno? Sì c'è Lui Combo sassot coda E vai Grazie Ma dite che Crepa se Il lupo Se finisce in acqua Non lo so Eccolo lì Ogni tanto Però i colori Che hanno scelto per Sta cosa qua Dell'annusata Sembra che senta Una nuvola di puzzo Vediamo Vediamo C'è qualcosa? Sì Giusto giusto No Dall'altra parte Dall'altra parte Bravo Un paio Di ghiande Eccoci qua Oh ma Scratch comunque Scemo scemo Ma bravo a nuotare Lo è Ecco fatto Stupido lupacchiotto Dunque Che cos'hai da dirmi? Cartello magico Creature amichevoli Potranno aiutarti A volte basta fare Due chiacchiere Con un amico Se non funziona Puoi sempre cercarlo Di colpe Ah beh certo Dove no? È così che funziona L'amicizia D'altronde No? Allora amico Che ti prende? Demi sei rimasto Bloccato? Sì amico Ho bisogno Di salire là sopra Appena dato la cera Alla mia corazza E ora è tutta lucida E pulita Non esiste che rischi Di graffiarla Per aiutare un piccolo Voi menateli Cospito Cospito Boiade Ma povero Ma che crudeltà E ora è pure svenuto Non posso neanche andare Dall'altra parte Credo Ecco qua Spero Cioè spero che posso andarci C'era la fessura Ok posso in teoria Esatto Ho fatto salire da qua Però Abbiamo un'altra ghianda Grazie E là però Scherza scherza però Un bel po' di ghianda L'abbiamo fatta Sto giro Comunque Ricordate bambini Se i vostri amici Non vi aiutano Menateli Ok abbiamo anche L'orso polare ora L'orso polare Mi sa tanto di Grande Grosso e cattivo Che male Qua dentro Sì Grazie L'orso polare Secondo me Se ci da una manata Scrat Mi sa che ci vorrà Un po' per riprendersi Eh beh posso anche Fagli Una gran bella culata Per Colpirlo Poi ogni tanto Se mi ricordo Anche Un giro di sassi Che non fa mai male Ok Che cos'hai per me cartello Benvenuto nella montagna Del pinguino Solo giocatori Che dominano Le loro abilità Riverranno in vetta Oh oh Sembra una sfida Per giocatori esperti Il modo migliore Per muoversi velocemente Sul ghiaccio E saltare Comunque Quello cos'è Ah certo Se è così Come posso dirlo Fuori luogo Questo scarabbeo gigante Che ogni tanto Lo vedi Dici Da dove arriva Il puzzo Non lo vedi Eh la telecamera Gioco Da dove arriva Da quella pianta Perfetto Eccomi Ah vabbè Non dico mai di no Alla frutta No Soprattutto se sono ciliegie No Ok Stavo per caricarmi Ok Ok c'è qualcosa Qua sotto Sì 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 C'è però Prima Avanziamo Ok no Mi sa che da questa parte Si prosegue Quindi prima Andiamo di sotto Quanta gente cattiva Che c'è in giro Peste se poi Si coalizzano Solo per mangiare Uno scoiattolo Oh Grazie Così già vicino Beh dai Abbiamo un bel numero Di ghiande Io mi lamentavo Che mille Erano tante Ma L'abbiamo raggiunte Letteralmente In fretta Siamo già A mille e cinque Vabbè Scaliamo la vetta E vediamo Quali abilità Un giocatore esperto Deve possedere Per avanzare Grazie dei sassi E ora Si scala la montagna Questo Ok Sì Ridamolo Grazie Ok quindi Quelli appesi Li dobbiamo evitare Dobbiamo ricordarci Sempre Di guardare Anche l'icona Di scratch Per vedere Se annusa Qualcosa Vabbè Questa è stata Un po' Sprecata Questa Effettivamente Forse è stata Un po' Sprecata Di pianta Però Giusto Per stare Full vita Per stare Sicuro Scusami Di qua Ci posso andare Un orso Lo vedo Però Eviterei Ah Ma era solo Uno shortcut Pensavo mi faceva Cambiare livello D'accordo Uh Calmo Calmo Piano Pianino C'è qualcosa Da queste parti Calmo O meglio Più che qualcosa C'è modo Di Vabbè Ci sarà modo Di risalire Di sicuro Colpisci l'orso Cinque sassi Per ammazzare Un orso Un po' Eccessivo Ok C'è Scrat Che hanno usato Qualcosa Eccola qua Grazie Che poi mi Continua a dare Frutta Per ricaricare L'abilità Ma Non ti trovi O almeno Io Non mi trovo Mai in una situazione In cui dico Forse sarebbe meglio Usare l'abilità Invece dell'attacco Normale Sai Cioè non è che mi sono mai Trovato tipo Circondato Da nemici grossi In cui devo dire L'unica soluzione Per salvarmi la vita E utilizzare Una giravolta Poi magari Più avanti Succederà Ok Che cos'hai per me Lungo Lungo il tuo percorso Scoprirai Delle scorciatoie Una bella scivolata Renderebbe molto più breve Il viaggio di ritorno Se cadi Aha Grazie L'importante allora È leggere Tutti i cartelli Nel caso trovassimo Le suddette scorciatoie Giusto Chi è Ma voi dite che I nemici Posso tipo Buttarli di sotto O simili Perché secondo me Prima un cinghialozzo Facendo la carica Ok mi sa che Di qua torno indietro Un cinghialozzo Prima facendo la carica Mi sa che Si è buttato giù Da un burrone Però nemici Io se li colpisco Non è che Volano via Ehi là Sono in cima Venite avanti gente Venite avanti Scommettete le vostre Reserve per l'inverno Per vincere qualcosa Di speciale Allo Dei pinguini Di rapido Ah ah Sembra proprio Un tipo che scommette Si mamma mia Non ho nulla Che ti serve Giusto E di questa Che mi dici Da da Lo sapevo Beh Buona fortuna Che bello Il bullying Nei minigiochi Io mi ricordo Il gioco di Crash Bandicoot Tag Team Racing Dio mio Quanto tempo Ci ho buttato Sul bullying Di quel gioco Premi una volta X per impostare La direzione E poi per deviare La palla 100 punti E vinci Ok Madonna mia Quanta velocità Porca miseria E qua è tosta E qua Devi imparare Il tempismo Che cattive Ha fatto proprio Hai ammazzato Di pinguini Sei un essere Spregevole Più che altro Ho capito Dai 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 Strike Che il modo giusto Per lanciare Strike Per lanciare La palla Non è questo Il punto importante Ma questo qui Perché lui Non si ferma Quando fai la X Si ferma Si ferma Un attimo Dopo Ecco qua Vediamo Magari non avrò Fatto E invece Già capito il metodo Stroiku Vabbè adesso Non me la gaso Non ci arrivo A 100 Però Troppo Infatti Guarda i pinguini Come mi guardano Però questo Dai Questo è stato Un bel colpo Strike Al secondo Lancio Oh ma sono Bravissimo A prendere Il centro Un po' Meno bravo A prendere La precisione Del lancio Purtroppo Perché è Velocissimo È veramente Tanto 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 Troppo Veloce Dai A 100 Ci arrivo Almeno A me Fa morire Da ridere Il suono Che fanno Ogni volta Che li colpiamo Purtroppo Sta cosa Qua Che Tu Clicchi Ma va Nell'attimo Dopo È di un Fastidioso Madonna Mia Ok Dai Questo è Stato Un bel Lancio Un po' Tirato Per i Capelli Ma ce l'abbiamo Fatta E siamo A 80 Pass Punti Dai Ci arriviamo Ci arriviamo Dai Questo è stato Un bellissimo Lancio Questo è stato Perfetto Strike E siamo Già A 108 Punti È più Facile Compensare Un tiro Sbagliato Di lato Che prenderlo Al centro Perfetto Comunque Una volta Che capisci Il meccanismo Non è Difficilissimo Però è Fastidioso Ecco qua Ecco esatto In questo caso Sono andato Troppo di là Però dovrei Riuscire a fare Quest'ultimo Strike Strike Perfetto Vabbè che poi È semplice Sto gioco Però Almeno Lo strike Ce lo siamo Portati a casa E anche L'ultimo Dai 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 Yes Anche lo strike Extra Perfetto 160 punti Non male Hai vinto Hai ottenuto 164 punti Non l'ho nemmeno Visto Hai fatto pratica Vero? Eh lo so Sono bravo Beh Ecco la noce Ma Cosa? Credevi che ti avrei Dato una noce d'oro? Devi essere pazzo Sono rare come le Noci d'oro Beh Dubito che uno come te Metterà mai le zampe Su una di quelle E invece ce la farò Vedrai Si viveva bene Al parco acquatico Tutti avevano qualcosa Di divertente da fare Anche Sid E poi ci sentivamo Tutti al sicuro Nella ballata Finché non abbiamo sentito Di queste inondazioni Nel rivo All'inizio Non ci abbiamo creduto Chi crederebbe Alle storie Che racconta Rapido Tony Senza una prova Beh Non abbiamo avuto Nemmeno il tempo Di scoprire Se era vero Perché la nostra indagine È stata interrotta Da Sid Alle prese Con un numero folle Per attirare l'attenzione Ok È il turno di Sid Aiuto Aiuto Come si gioca Realizza Se ti vede Fai colpo Eh ho capito Come Ah devo semplicemente Passare Ah ma è una cagata Allora Ma posso tipo saltare No Non possiamo saltare Va benissimo Oh io Faccio attenzione Seguo Il mio percorso Ah Ahia che male Madonna Mie 150 punti Non è meno È di una cattiveria La cosa Madonna mia 7000 punti Dobbiamo fare Ma è tantissimo Ok Il più basico Dei written game Dio mio Sì Proprio così Ok Perca miseria Ma io posso rallentare No dai Dai Non è possibile Non è veramente possibile Questa è stata veramente Una cafonata No vabbè Qua ho sbagliato io Purtroppo Questa è stata proprio Una Grandissima cafonata Perché me l'hanno messi Una folata Di una dietro l'altra Qua Dai facciamo Tutto perfetto Almeno Nel written game Sono bravo Dai Le pupe guardatemi Andiamo No ok L'ho presa Pensavo di averla saltata Bravissimo Sid Aia Ok Dai che forse Dai ci siamo Ci siamo Perfetto Ok Dai Facciamola perfetta Ho sbagliato Ho sbagliato Cacchio Ho sbagliato proprio Il giro Una certa Me la sono proprio tirata Dai Me la sono proprio tirata Sono bravo Nel written game Quando sono fatti bene Magari si Dai Ma porca miseria Ma non c'è spazio Di girare Non c'è spazio Di girare Dai Sto gioco È infame Scusatemi Se mi sono Zittito un attimo Ma veramente Ok Qua facciamola Giusta Ok No Ma si era sbiancato Si era sbiancato Una volta sopravvissuti Al numero di Sid Abbiamo scoperto Che la storia Di Rapido Tony Era vera Il ghiaccio Si stava sciogliendo E si era aperta Una crepa Nel ghiacciaio Che proteggeva La nostra vallata Siamo tornati indietro Per avvisare Tutti gli altri Ma non era facile Convincerli Ebbè certo Fortuna che a sostenere La nostra storia C'erano i nostri amici Pennuti Che aspettavano Questo disastro Per organizzare Una festa Una via di fuga Comunque esisteva Dall'altra parte Della vallata C'era una grande arca Formata da un tronco D'albero Che avrebbe potuto Trarci tutti in salvo Mi sembra La soluzione migliore Dall'altra parte Dall'altra parte Dall'altra parte Dall'altra parte